A spaventare le forze di opposizione non sono tanto i nomi dei ministri, quanto quelli dei di Casteri. Dalla «sovranità alimentare» alla «natalità», passando per le «politiche del mare», sono tante le perplessità espresse da sinistra. A partire da Nicola Fratoianni, che ha scelto di fare ironia. Nell'elenco di Giorgia Meloni delle «nuove» denominazioni dei ministri manca solo il di Castero delle colonie e quello delle corporazioni. Per il resto, ha aggiunto il segretario nazionale di sinistra italiana e la fotografia del tentativo di una restaurazione nell'Italia del 2022. A questo disegno profondamente ideologico della destra si accompagna una compagine di governo di livello mediocre, che non riuscirà a dare risposte ai problemi del paese, se non aggravarli. Da questa sera ci sono mille motivi in più per promuovere ed organizzare l'opposizione in Parlamento e nel paese. Preoccupato anche Enrico Letta, che ha affidato il suo pensiero a un tweet. Dopo aver ascoltato lista, nomi e denominazioni del governo Meloni dico ancora più convintamente opposizione. Opposizione? Opposizione. Dalle parti di Italia Viva emerge invece l'intervento di Luigi Marattin. Una volta si usava mettere lo slogan Crescita. Salva Italia, solo ai decreti legge. Ora, vedo, siamo passati più ora ai ministeri. Sono particolarmente curioso, tra l'altro, di sapere cosa accidenti sia il Ministero della Sovranità Alimentare. Blocchiamo l'import di Kiwi?